ma la brucano again la brucano secondo me è l'unico playable di questi tes mi fa vomitare zio mi fa vomitare il culo tes con bestia e nonina anche no fa schifo piglio brucano non c'è sconfitta non c'è sconfitta nel cuore di chilotta anche questo è vero questo non è male brucano è molto buono con le quest rega perché ti finisce le quest quello di voccare i pezzi di far cose direi tira più olsen no? qua perderemo il fight però no lui livello ok pareggiamo allora mi sa buona doppia banana grossa minchia queste qua piacciono a eh è la mamma del wazer non è proprio un quick però comunque brote non ce ne voglio dire eh beh uno due 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 non è male questo lo piglierei c'è anche coppia però a me piace più prenderlo questo questo è forte scravo sempre prego madonna ho preso tre banane grosse cazzo si opera merda tre banane grosse esperienza ragazzi data da qualcuno in chat forse le tengo tutte le banane in mano non lo so boh ci sta così no? due le hold però perché metti che mi dia la quest guarda quanto sono clean capo veramente mucho clean banani ho la data 100% di win le altre le stiamo holdando esatto mamma di wazer 7 gameplay kek no 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 metti 12 carte nella tua mano beh quella lì si fa easy all'inizio del tuo turno fai morire 18 tuoi pezzi questa qua si può fare anche questa in realtà 8 naga o demoni invece è un po' più lunga allora io eviterai la terza qua beh questa qua la faccio subito praticamente rega ma subito no però una banana ogni turno sono già tre carte al turno e ti da un servitore gratis ogni turno oppure c'è il centro ci sta centro eh togli dei tratto dai pezzi dovrebbe farla abbastanza in fretta meglio il centro però lì si che brobrio sta roba ragazzi non vorrei madonna che brutta sta hit 16 di loss forse devo dare una ulteriore cosa lì madonna brutta questa però qua andiamo già molto avanti con la quest cioè in un paio di turni questa la finiamo rega non è buona da prendere per quello stiamo sfigando madonna mia che scarogna ragazzi però ha quattro tuoi servitori non ha tutti allora da quattro pezzi non ha tutti eh io pensavo a tutti lucky metà quest fatta madonna è bruttissima sta roba rega piglio lui però tir up piglio lui giochi a lui facciamo HP non so neanche se vendere roba ora voglio tenere loro giù un paio di turni non saprei cioè non so ma le banane a me piace più dare la target singolo non so come dire anche lui è livellato cioè intanto lui me la gioco così no qua secondo me ci può stare c'era il top serve e finirla quest ora ma vediamo ma la socio eh qua è una merda perchè non la finisco la quest mai non la finisco mai 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 qua forse ho giocato troppa roba rega non lo so cioè troppa roba troppe non roba ma il punto è che non voglio neanche andare a prendere infinite pizze cioè rischiare di prendere pizze va bene tanto la finiamo ora era comunque difficile da finire cioè ci dovevamo perdere il fight qua e questo qua era terribile su board quindi penso che anche non giocandole banano comunque giocandole in modo diverso sarebbe finita così vi dico la verità eeeh questo non è male anche lui non è male sono tempo play oneste ripiglierai forse entrambi oppure piglio maracas vendo due livello al 4 già ora così dopo già siamo al 4 potrei vendere due andare al 4 qua tanto la quest la dovrei comunque sia finire penso anche così facendo no vendo loro due piglio quello che evoca il pezzo ci sta più scelta sugli eroi cioè averne quattro posti due il pass è l'unica cosa che devi pagare su bg se vuoi che costa eeeh 14 euro e 99 ogni quattro mesi quindi molto onesta come roba penso ok questo qua qua vediamo uno qua diamo questo qua questo qua qua e diamo il detratto dai pezzi dai ci siamo messi bene 90 di loss ci sta lui è al 3 noi siamo al 4 perdiamo il fight però siamo al 4 con la quest finita ora è ok come cosa direi ah c'è scusa c'è questa già finita la quest? dei servitori che costano 2 oro? ma come cazzo è possibile? ma come cazzo è possibile? c'è gg per la lobby zio eh ah è un bug non ancora la finita è un bug ok ah no dico minchia mi sembra assurdo ragazzi che brobre questo è ok in realtà dai è permanente no questo? però si presumo spero oh triple u tripleta capo cosa voglio fare? pigliare lui? per triplare? perchè non vorrei vendere uno di questi sono tre pizze però eh sono tre pizze che tanto alla fine mi salvano loro cioè questi qua mi eviteranno di prendere tre danni probabilmente se li tengo su bella merda ragazzi complimenti che schifezza cristo immondo piglio lui eh vabbè mmm è quel care capi è quel care questa roba questo qua non penso avrà l'eroe o robe del genere io vado l'in coi eh vado l'in su pezzo singolo chi si è visto si è visto zio faccio così serve il blu serve il blu ragazzi qua o serve la tripla di questo in tu pezzo al 6 e per pezzo al 6 si intende la cosa se questo qua come primo pezzo ha il fiele mi tira un'inculata che ha sangue davvero non ce l'ha come primo se l'ho detto io come primo potrei bestemmiare ok non perdevo forse comunque però si eh questo è messo bene comunque oh mamma porca troia pure doppio battle cry ora no aspetta forse non ancora 19 su 20 cazzo ok vediamo ah la c'è la torrennaz ragazzi forte ci piglia qua ah però me lo dai inizio del turno quindi me lo dai il turno dopo non ora che robberi cristo sta roba madonna puttana che robberi questa zio pera il tracker dove si scarica da google cioè scrivi airstone deck tracker e lo trovi cerchiamo blu qua ok ho la tripla buona sta tripla eh anche questa non sarebbe male la coppia di questi due se ci fornisse l'altro pezzo allora il discorso è no la faccio al 5 faccio al 5 ci da brun tipo questo non è terribile come si piglia lei qua rega si piglia lei penso c'è la coppia di questo se vogliamo prenderlo questo fa cagare rega la piglio è brutto prendere un pezzo a 2 ora ma blu eeeh kinda late capo non so neanche se frizzarlo sincero perchè dopo i discover un sei da qua proviamo a prenderlo blu blu più tripla proviamo a fare come è messo questo è messo che allora questa è una buona hit è messo che scamma ragazzi questo è messo bene perchè ha già i baddi di coso l'hai sblocksettato non ci sono robottine quindi riesce a scammare per bene non è messo male sto tipo anzi noi adesso abbiamo gli acceleratori almeno riusciamo a a discoverare un doppio sei vedere cercare di rollare un sei buono avendone due disponibili buona sta roba almeno buono e qua mi serve triplare rega ma il suo servitorio è un p4 attacco ora in viene un pezzo dopo che ora in venire un pezzo non è brutto dopo il p4 attacco anche ovviamente molto forte per il fight corrente il p4 attacco si fa sentire ogni pezzo è un più Però boh siamo in una situazione Dove secondo me serve più questo Vi dico Piobrobrio ragazzi Madonna mia Non so se voglio ritrasformarla questa Questo fa cagare Ma questa per ora la tengo giù Madonna che ho Brobrio ragazzi Però porco dio Fuck me Vediamo il turno dopo tripliamo Sono andato lì in su uno io qua Consapevole del fatto che c'è caso Che questo mi inculi Eh sì Possibile Ah bruttissima sta hit cazzo Pessima quella bro Che aveva l'esatto trade su quel pezzo lì Madonna qua quanti ne piglio Fortuna c'è ancora il cap Terribile sta roba Perché aveva l'esatto trade su quel pezzo Eh qua crepiamo noi rega ora Eh sì Bah Mucla con i servitori che costano due Non deve essere troppo piacevole Beccarselo ora Quello più a sinistra Quello più a destra Serve qualcosa a renderli dorati Vabbè sicuramente meglio rendere dorati Perché solo inizio il combattimento Qua crepiamo ragazzi Farla al 6 ha senso Può aver senso sì Questo fa cagare ragazzi Il duo Questo può essere decent Che palle ragazzi però Porca troia Questa qua deve saltare Fa schifo Questa la dobbiamo giocare anche Siamo morti rega qua Ah che merda ragazzi Sta roba Porca troia Ah Questa la devo giocare sicuro Con fiele Deve saltare lei rega qui Fa schifo Giochiamo tutto Arrolliamo E' buono Chiudiamo su di lui Che è un pezzo più grosso Ma siamo morti Siamo giga morti qua Era giocare prima l'altra Ma siamo sempre giga morti qua ragazzi Fa schifo sta robaccia Questo qua pica altra al 6 Con i servitori che costano 2 Sarà giga enorme Sto tipo Ti dico Sì è enorme Purtroppo enorme Brutta le hit lì Non penso basti sta roba Per non morire Questa è una buona hit Questa anche Molto buona in realtà Ok siamo vivi dai Buono 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 Bene Ci è andata fatta bene Che abbiamo intatto il veleno lì Serve un morto a noi Ci becchiamo un morto a noi Bella Socio Grazie mille del Prime 4 Due morti Intanto almeno non abbiamo fatto Ottavo Scagnozza Luceno Vendetta Tra infligge 10 danni Al servitore nemico Con più salute Meglio le ricariche Con benefici Penso qua Cazzo E' inutile però Sta roba ragazzi Molto divertente Quanto inutile Nulla Zero qua Zero qua Anche madonna santa Però Fuck Non mi da una tripla Zio Alla 2.6 Ragazzi Fiere non è come Veleno una volta Non è così buono Sta roba Belle ricariche Inutili Oh Questa è buona Cazzo Cazzo Questa è una buona Taverna Porca troia La tissa Non male Forse deve saltare Uno di loro Sapete qua Vabbè Perché Mirmidone Non è brutto Da giocare Qui Proviamo così Madonna Mirmidone Triplo Anche Eh non abbiamo Il mana Ora Non dobbiamo morire Ora Buona Hit Buona Madonna Perché questo qua Tira Stecca Sti tre Qui E' ottima Sta roba Questa è terribile Però Ok Ok Ora abbiamo Mirmidone Triplo Grazie Nate Delle tre cartelle Extra Grazie Morghi Grazie Mille Del prime Thanks Thanks a lot Bella ragazzi Ha un game Un po' complicato Quindi sono un attimo Focusato Qui però Ci siamo Top 4 Buono Alla fine del tuo turno Questa è sgrava Perché dà furtività a lui Non è male Ah intanto faccio alla tripla Vediamo cosa ci dà Questo si piglia Sempre Altro blu Il nuts Semi tripla blu Qua huge Madonna Santa Alla chi Questo si piglia Direi Servitori misti Non so se è buono Tenere lui Giù La 2-5 La 2-5 Era figa Però era un po' lenta Oramai Secondo me Ah salta lui Può saltare lui Questo può saltare 2-5 Ormai ragazzi Tardi Ci siamo in top 3 Salta lui Qui Roll Roll Giochiamo blu E via Io questo Lo terrei Poi facciamo Questa qua Questa qua E le diamo tutte a lui Qua ho l'in Qua ho l'in Ragazzi Qua ho l'in Vorrei evitare i veleni Quindi questo qua Piglia stealth Vediamo Questa è la play Speriamo basti Abbiamo fatto un buon turno Buon turno di comeback Qua vediamo se basta Eh oddio Siamo sopra tecnicamente Mi pare assurdo Essere sopra però Oddio Il divan shield è sgravo Però Mi sembra strano Molto strano Essere sopra qua Beh in realtà Non è così Non è così grosso lui Cioè Questa con stealth Cariava tutti i pezzi Tranne i suoi veleni Quindi in realtà Sì eravano sopra Anzi non so come per Sì Se anche un fiel andava qua Comunque questa dopo Killava tutto No Non eravamo messi male Effettivamente Vediamo Top 3 again Madonna che solidità Ragazzi Maracas Wow questo è figo Dobbiamo triplare però Si chiama il post di sto blu qua Se non tripliamo Alternativa è quella Alla chi Salta questo Rega Si Di chi ha lei Ok E una qua Secondo me no Veleno Rega va lasciato qui Veleno va lasciato Perché Possiamo beccare uno Tipo questo qua Murlock Mettiamo il veleno indietro Tecnicamente buono Parecchio buono tipo Bella tecnolo Trasciando il fatto che Sia morti qua Io lo terrei il fiele qui Pigliamo I danni Metti che abbia dei divine Però Secondo me qua si è morti ora Tante altre top 3 Solida Comunque sia È grosso È buono però Buono il mio Madonna che brutta Sta hit Possiamo restare vivi Samau O possiamo anche Eliminarlo Lo elimino E te la dabbo Però la Eliminazione di questo Ti faccio la dab Però qua Cringe Cringe fiesta Cringe fiesta Te la dabbo 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 È morto dal morto È nel primo posto Clamoroso Un primo posto Clamoroso Del thunder È morto dal morto L'altro Un primo posto Pazzesco Incredibile Primo posto Del thunder Dal nulla Con un comeback Mostruoso Mai visto prima Grazie a tutti Non No And baby, leave it on our first night